Sicuramente è una situazione difficile che sta attraversando l'ente, una situazione che non abbiamo mai nascosto. Ma è d'obbligo fare alcune precisazioni perché in modo scorretto ed inesatto l'opposizione ritiene che ci siano delle possibili ipotesi di danno eradiare, delle ipotesi che ovviamente non trovano la genesi in questa amministrazione ma nell'amministrazione precedente. Si fa poi riferimento sempre in questa nota ad alcune irregolarità contabili e all'amministrazione che va avanti anche con delle relazioni sfavorevoli del Collegio dei Revisori. Su questo ovviamente sarà fatta chiarezza perché mai questa amministrazione ha approvato degli atti senza ovviamente tenere in considerazione le osservazioni fatte dal Collegio dei Revisori. Di fatti se si prendono in considerazione le delibere di Consiglio Comunale sono state sempre modificate sulla base delle osservazioni che hanno avanzate i Revisori e in più con il parere del responsabile dei servizi finanziari. Ovviamente questa nota dei Revisori nasce dall'operazione verità che questa amministrazione ha fatto e che continuerà a fare. sarà sempre al canto dei Revisori e di tutti gli organi preposti perché ovviamente noi abbiamo sempre detto che volevamo risanare le casse comunali e volevamo far sì che questo ente ritornasse ad essere quello che è sempre stato. È un'operazione che ovviamente arriva oggi con la nota dei Revisori ma che noi abbiamo iniziato ancora prima del Collegio, subito dopo il primo parere del Collegio dei Revisori con una delibera di giunta abbiamo avuto a cuore le sorti finanziarie di questo ente chiedendo a tutti i responsabili di settore di fare chiarezza. Dopo gli iniziali pareri negativi del Collegio dei Revisori si arriva poi ad avere un parere positivo sul piano di riequilibrio finanziario e poi anche positivo sul bilancio stabilmente riequilibrato. Quindi vuol dire che pian piano questa amministrazione riesce a risalire dalla palude. È ovvio che non è corretto da parte dell'opposizione, la maggior parte di loro hanno anche fatto parte delle amministrazioni precedenti utilizzare questo contro questa amministrazione che tutto ha fatto tranne che mettere un coperchio su tutti i problemi che c'erano ma anzi ha iniziato questa operazione verità e che sta portando avanti. Sono stata io personalmente alla Corte dei Conti dove tutto quello che viene indicato dal Collegio dei Revisori ho anche in serie di deferimento sottolineato e ripeto la genesi di questi eventuali danni reali prende corpo dalle precedenti e non da queste alle quali viene solo imputato una ipotesi di irregolarità amministrativa che ripeto può essere confutata dagli atti amministrativi che sono stati poi approvati da questa amministrazione. Sicuramente è inaccettabile questo comportamento dell'opposizione che tra l'altro in modo anonimo cerca di nascondersi dietro un manifesto senza metterci la faccia così come ho sempre fatto io sin dall'inizio di questa amministrazione. Non ho mai negato ovviamente di aver fatto parte delle precedenti amministrazioni sono serena per tutta l'attività che ho svolto in quel periodo e sicuramente non posso essere né io né i consiglieri di opposizione ad acclarare eventuali responsabilità ma ci saranno gli organi competenti a farlo.